Allora, eccoci qua, proviamo a grattare un nuovo gratta e vinci, questo si chiama il vincitore, sempre da 5 euro questo è un po' più complicato però, perché come vedete ci sono 3 giochi, 1, 2 e 3 e ogni gioco ha il suo regolamento, poi ci sono i bonus, 1, 2 e 3 e veniamo a fare i bonus pure noi, ma soprattutto lui deve fare il bonus allora, iniziamo, intanto scarto, gratto i tuoi numeri questo è il primo ok 17 17 sarebbe 17 in inglese poi facciamo il secondo il secondo è 37 con 500.000 euro di premio ma vabbè, proseguiamo terzo numero questo terzo numero è un 27 ok, andiamo avanti quarto numero questo quarto numero è 36 ok andiamo avanti altro numero 42 poi altro numero 48 38 ok andiamo avanti sempre con il primo gioco ovviamente rosso di colore rosso questo è il 15 ok poi andiamo avanti ancora c'è un 38 e con questo abbiamo terminato i tuoi numeri con un 30 adesso dobbiamo trattare i numeri vincenti vediamo che dice il primo numero vincente è 32 32 e noi non ce l'abbiamo proseguiamo abbiamo un 44 44 niente e vabbè andiamo avanti abbiamo un 19 19 e il 19 e il 19 non ce l'abbiamo ma neanche questo adesso scattiamo i bonus vediamo che succede ma tanto qui non abbiamo vinto e quindi è inutile che però vabbè ci stiamo facciamo anche questo qui abbiamo due numeri 27 e 43 e non ci abbiamo nemmeno questi nessuno di tutte e due quindi niente il primo gioco è andato in fumo e un perfumo ha fatto perché non abbiamo vinto niente adesso proseguiamo con il secondo gioco nel secondo gioco dobbiamo trovare due simboli uguali per vincere su ogni giocata qui abbiamo una chiave e una bici e non ci facciamo niente però sulla seconda giocata abbiamo invece delle carte e degli occhiali e io già li ce l'ho gli occhiali ma non vedo una lira però poi terzo terza giocata uno scooter e un binocolo niente da fare andiamo avanti quarta giocata quarta e ultima giocata abbiamo una bussola e un hotel e anche qui abbiamo scartavetrata a vuoto vediamo che cosa dice sul bonus abbiamo una macchinetta fotografica che serve per vedere che non abbiamo vinto una lira qui perché il secondo gioco dice se trovi due simboli uguali vinci il premio ma i due simboli uguali non li abbiamo trovati ecco qua si è un po' storto tutto però va bene così quindi primo gioco è andato in fumo il secondo gioco è andato in fumo il primo si brucia tutto adesso vediamo sul terzo e ultimo gioco qui il terzo e ultimo gioco dice che dobbiamo trovare lo stesso importo per due volte e si vince allora primo importo sono 30 euro 30 euro secondo 5 euro niente 5 euro niente poi quest'altro 50 euro 50 euro nemmeno a parlarne 50 euro ultima 150 euro niente da fare one ride 50 più o meno se dirà così in inglese non lo so in inglese quindi e niente poi abbiamo il premio bonus che è da 15 ma qui è andato in fumo tutto ci siamo bruciati tutti perché non abbiamo vinto niente di niente e quindi e quindi niente cari ragazzi spero che sia andato bene e guarda un po' te perché qui non si è vinto niente questo momento non si è vinto Grazie a tutti.